E' nel momento più difficile per l'economia di tutto il territorio che Terna decide di investire, anche in Toscana, un totale di 525 milioni di euro per ammodernare la rete elettrica della nostra regione. Dall'investimento complessivo 130 milioni saranno destinati ad interventi per ammodernamento e resilienza degli asset già esistenti, interventi di sviluppo e ammodernamento previsti già nel piano strategico che consentiranno la demolizione di circa 130 chilometri di linee esistenti, la realizzazione di 40 chilometri di cavi interrati di ultima generazione e 30 chilometri di cavi marini. Terna, con 198 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce in Toscana circa 5.230 chilometri di linee di alta e altissima tensione, oltre a 55 stazioni elettriche. La lista degli interventi è corposa, uno dei principali è il nuovo collegamento che rinnoverà con moderne tecnologie l'attuale cavo marino tra Sardegna, Corsica e l'Italia peninsulare, dopodiché si faranno, tramite un intervento architettonico, una nuova stazione elettrica di conversione a Suvereto, una nuova linea di 80 chilometri tra l'Emilia Romagna e Calenzano, per migliorare gli scambi tra il nord ed il centro nord della Toscana, che si allontanerà dalle aree urbanizzate. Questa nuova linea sarà studiata in funzione del territorio, in modo da armonizzare i sostegni con l'ambiente. Previsto anche un nuovo collegamento tra l'isola d'Elba ed il continente per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del servizio elettrico sull'isola. A Firenze, poi, la rete sarà razionalizzata. Verranno demoliti circa 20 chilometri di vecchie linee in area di grande pregio ambientale.